A certe mire c'è proprio il signore, se no dovevo morire. Testimonianza di Giuseppe Fino, nato a Revello, classe 1909, contadino e operaio. Mio padre, assieme ai due fratelli, conduceva in affitto una cascina di 100 giornate. Nel 1909, a San Martino, si mette per conto suo, affitta un ciabot vicino a Revello, ma nel 1910 muore. Io ho 13 mesi, la mia sorella più alta ha nove anni. Mia madre deve vendere subito le otto vacche a 100 lire l'una e tutti gli attrezzi e cedere il fieno. Ci trasferiamo presso i nonni materni, mia madre ha 37 anni. Se mio padre fosse rimasto in vita non avrei mica fatto le vite che ho poi fatto. Mia madre, pur di rimediare qualche soldo, lavorava durante l'estate alla Filanda di Revello. Nella campagna, cioè nella stagione in cui si giravano i bozzoli, in cui si preparavano i bozzoli per la cottura. Stendevano i bozzoli sulle stuoie dell'essiccatoio, in alto, tutto a mano. Preparavano i bozzoli per la cottura. Dalle stuoie un po' di bozzoli cadevano a terra. Allora c'eravamo noi, otto o nove bambini, che li raccoglievamo. A noi bambini davano due soldi al giorno. Nella Filanda di Revello lavoravano duecento ragazze. Sono uscito la prima volta di casa nel 1917. Non avevo ancora otto anni. Mio zio era manovale in una cascina dove cercavano un bambino come Vachè. Così sono andato dai Gramaglia, proprietari di cascina, gente ricca ma avara. Dovevo guardare i maiali. Dormivo sotto il portico, sulla paglia. Non mangiavo a tavola ma nel cortile, come un cane. Una volta che avevano fatto la polenta, mi sono presentato a chiederne ancora una fettina. Il padrone, sto villano, sto lazzarone, ha tagliato con il filo una fetta di polenta. Poi me l'ha placcata con rabbia sulla mano. Non dalla parte della crosta, ma dalla parte che la polenta scottava. Io l'ho buttata subito quella fetta di polenta e sono scappato via. Ma la mia mano è poi gonfiata e si è spellata tutta. Ma era gente così, avara e ignorante. Lì dai Gramaglia non prendevo nessuna paga. Ero lì per il governo, cioè per essere mantenuto e basta. E basta, appunto. In agosto mio zio litiga con i Gramaglia, decide di cambiare padrone. Allora io lo seguo, torno a casa. Ma quella sera mia madre mi ha dato tante di quelle botte. Mi ha detto, sta tranquillo che l'anno prossimo ti affitto in un posto dal quale non scapperai più. Infatti mi ha messo a Cantogno, vicino a Villa Franca Piemonte, ben lontano da Revello. Era il giorno di Pasqua quando mi sono presentato al nuovo padrone. Mia sorella è venuta con me da serventa nella stessa cascina. La cascina era grossa, una sessantina di giornate in affitto. C'era la guerra e la mano d'opera mancava. I miei padroni avevano due figli sotto le armi. Lì era una galera. Dormivo nella stalla con un altro vacchè di nove anni, sopra al soppalco. Sotto avevamo una trentina di vacche. Nell'estate ci siamo ricoperti di pidocchi. I pidocchi ci mangiavano, ci facevano morire. Anche le mosche ci mangiavano. Di notte ci svegliavano. Era un bruscio continuo. Come di uno sciame di api. Al mattino, quando scendevamo dal Cabec, avevamo una faccia nera come il soffitto. C'era una signora che, da Villa Franca, veniva alla cascina a comprare le uova. Una volta mi dice, vieni un po' qui che ti guardi. Mi apre la camicia? Oh, povero bambino, come fai a vivere così? Ero tutto morsicato. Una sola piaga. Ha chiamato i padroni. Ha voluto che vedessero. Gli ha detto, ma lo fate morire questo bambino. Allora i padroni mi hanno spogliato, hanno fatto bollire i miei stracci. Poi mi hanno mandato a dormire su un carro. Sotto lo spiovente pulita. Al mattino non mi svegliavo più. I padroni mi tiravano su dalla paglia, ma io cadevo di nuovo giù. Tanto ero stanco. Tanto dormivo bene. La stessa cosa per l'altro va che. Era anche lui nelle mie condizioni. Ogni mattino all'alba i padroni tagliavano già la fetta di pane e la fettina di formaggio. Il formaggio era duro, scremato, sapeva di sale. Poi ci chiamavano, ci davano il pane e il formaggio e mettevano subito in libertà i 25 maiali. I maiali avevano fame come noi. Correvano nei campi lontano e noi dietro di corsa. Spaventati perché temevamo sempre di perderli. A mezzogiorno polenta o minestra. Alla sera polenta e latte. Sempre così. Mia sorella era privilegiata. Mangiava a tavola con i padroni. Noi va che ci sedevamo sui tre scalini esterni della cucina, il piatto di terra nera tra le ginocchia. A volte osavamo chiedere ancora una fettina di pane. Di solo pane. Pane. Eravamo come i mendicanti. La fame? Avremmo mangiato le pietre. Poi è uscita la spagnola. L'altro va che era di cardè. È venuto malato. È tornato a casa. L'hanno presa tutti la spagnola. Meno io. Guardate che il signore aiuta. E certe mire c'è proprio il signore. Altrimenti dovevo morire. Tutti hanno preso la spagnola. E anche le galline hanno preso una malattia e morivano. I padroni potevano solo mangiare il brodo. Facevano bollire tutte le galline morte di malattia e io mangiavo tanta carne. Allora mi sono rifatto. I padroni pregavano sempre. In quei tempi si pregava tanto per la guerra. Tutte le sere anch'io e il vecchio servitore dovevamo andare a benedizione. Sospendevamo il lavoro e scalzi andavamo in chiesa. Come tornavamo dalla benedizione riprendevamo il lavoro. A caretè. A fare i mucchi di terra nei campi. Le mutere. Mi chiamavano alle tre del mattino. Avevo poi solo otto anni. Un freddo. Un freddo. C'era sempre la nebbia bassa. C'era sempre la galaverna. La brina attaccata alle piante. Io tiravo la coppia dei buoi e il servitore vecchio buttava giù la terra per le mutere. Lavoravamo fino a notte tarda. Fino a quando cadevamo dalla stanchezza. In quella cascina il dilemma era vivere o morire. I miei piedi erano come quelli degli africani. Erano una suola dura. La ruggiata del mattino è acidosa. Brucia anche il cuoio. Sul collo dei miei piedi l'erba bagnata e la polvere avevano formato una crosta che si spaccava. Che fazia siola e sanguinava. Avevo sempre un bruciore come il fuoco. Tutti i vachè erano rovinati così nei piedi. Da Pasqua a Natale la mia paga era di 80 lire. Tre anni ho lavorato in quella cascina. Poi mi sono affittato un po' di qua e un po' di là. E infine da certi vada vicino a Revello. Ero poi già un giovanotto. Stavo poi già bene. Da Santa Caterina a Natale guadagnavo già 4000 lire. Il valore di due vacche delle più belle. Anche lì i denti non te li facevano posare a causa della carne. Ma mangiavo già a tavola con i padroni. Ti davano già un bicchiere di vino dell'America e un vinello di uva americana. Nel 1927 sono diventato operaio da Locatelli.